SQUILLA Mario! Si è addormentato? No, è già morto. Abbiamo finito il numero. Sì, è morto. Mario! Dime! Mario! Vecchi! Vecchi, che questa è mia amica? Sì. Vecchi, che ti faccio vedere la cosa. Vecchi o di Nore? Eh? Vecchi o di Nore? A RENT o di Nore? A RENT! A RENT! A RENT! Vecchi! Che cazzo è A RENT? Ma lascia perdertelo! Oh, Mario! Mario! Ecco, fermi. Adesso c'è A RENT. Ah, A RENT. A RENT. Di Nore? Di Nore uguale. Uguale, precisento. Mamma mia, scriverò un libro sul dialetto trentino. Che fai? Chi è che? Il gatto e la volpe che hai messo in salto? Allora lui, gin e tonic. Gin e tonic. Spritz. E Spritz. Perché è roba da carafe, non gin e tonic. Guarda. Allora. Ma che volete quattro? No Mario, non ti devi preoccupare. Siccome sai che il tuo bar è il bar degli artisti. Cosa è questo? Da Forlì? No. Che da Forlì? Oh, mica siamo qui a cincinnare le iene nel deserto qua. Cacchio ho detto non lo so. Non devi dire più niente. No. Lui viene dall'Armenia. Allora prima ti ha detto, dove cazzo hai l'Armenia? Non te l'hai ancora capito? L'Armenia confina a sud con la Turchia, a est con l'Azerbaijan, a nord con l'Iran. Basta, fermo, basta. Cazzo sei un talebano. No. Ok. Mario, dobbiamo fare un esperimento. Tu mica hai paura delle magie? Dell'Armenio. Dell'Armenio? Dell'Armense. Guarda che caviglia. Guarda. Invidia. Allora, è tutto tuo. Invidia. Caro, vieni un attimo qui Mario, per favore. Sei pronta a cantare? Sì. Ok. Mario, guarda di davanti. Mi fa paura. Un passo. Un passo avanti. Mi fai paura a te. Allora, bene. Sei pronta con la canzoncina? Yuhu! Mimi Cocò. La canzone. Allora, tu metti di là e tu metti di là. Cantate insieme. Sì, arrivo. Siii n n a n a n a n a n a n a n o. Cioè se tu canti così tua figlia, non dormi di notte. Se canti così, mi vai da ridare. Siii n a n a n a n a n a n a n a n a n a n o. questo cesso a chi lo dò? Ah, non è uno... Fermo così. Adesso il suo corpo è qui, ma lui non c'è. No, devi far sparire anche il suo corpo. È lo stesso. Ma non hai capito niente. Lo teniamo, lo teniamo, così dobbiamo far vedere, perché sennò dopo i carabinieri cercano te. Ah, ok. Capito? Cioè, adesso gli posso tirare la bottiglia del fisuno. Dopo, dopo, dopo. Girati. Ssh. Gin. Uno, due, tre. Ssh. Porco zio. 118 chili. State zitti con il svegliato. Ssh, che non svegliate. State zitti con il svegliato. Ssh. Stai a svegliarlo, no? Posso dare un bacino? Se ti piace lo schifo, puoi dargli un bacino. No. Ssh. Adesso silenzio. No, perché sennò si sveglia. State zitti. Ssh. Ssh. Adesso è serio. Lieviterà Mario. Ssh. Ssh. No, perché si sveglia, sono cavoli. No, sì. Anche il pubblico. Oh, questo Mario a chi lo do? Glielo do ai carabinieri che lo tiene un anno. Adesso non parlate più, eh. Lascia un secondo. Riprendi. Ni na na na, ni na oh, il marietto a chi lo dò, lo darò l'uomo nero che lo tiene una No, intero, via. Sì, ma sta anche bene. Uno, due, tre. Buttiamo giù dal palco? Sì. Le massa basse. Scusa, ha parlato dei miei capelli, guarda i suoi. Lascialo stare Mario. No, per fortuna che dorme. Dorme? Bisogna buttarlo da qualche palco, lo buttiamo nell'umido. No. No. No, perché dobbiamo aspettare a lunedì che lo vengono a raccogliere? È troppo. Puzza. Ne ingombranti. Direttamente alla discarica. Vabbè. Eh, ho la pesa, eh. No, adesso puoi svegliarlo. Svegliamo? No, gli vogliamo bene a Mario. Anch'io. No, che sto abbracciando io, lui. Vi ne abbraccia te, tuo capo. No, mi fa senso. Ecco. Cazzo quanto pesa. Eh, quanto hai detto? 118? 118 chili. Ah. Cosa stai facendo? Stai toccando il sedere, eh? 3 chili di piesellino. Scusa, ma fai un balletto? Sveglialo. Svegliamo tutti insieme con un bel applauso. Vai! Sì. 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 Il numero di lievitazione di Karem. È Mario. Guarda, Mario, tu eri addormentato e la gente diceva che peccato è una brava persona. Sì. Ora ho fatto una cosa mai fatta. Ascoltami. Eh?